Buongiorno a tutti, siamo qui con Bon Giovanni. Dopo il derby vinto dal Bra contro il Fossano 3 a 1, ti chiedo che partita è stata quest'oggi, come l'hai vissuta anche da ex? È stata una partita un po' combattuta al primo tempo, quel secondo tempo forse hanno fatto meglio loro, però abbiamo fatto tre errori nostri e loro non hanno colto l'occasione e hanno fatto tre gol. Poi per il resto comunque anche noi abbiamo creato, dovevamo forse concretizzare di più e c'è stato il rammarico, però dai, potevamo fare di più sicuramente. Ti chiedo quest'oggi cos'è mancato al Fossano per provare ad incidere in questa partita, perché poi con le occasioni ha dimostrato che riesce a tenere testa anche il Bra. No, no, sicuramente, noi siamo partiti benissimo e manca sicuramente quella attenzione in più a non sbagliare, cioè a non creare quelle palle facili che poi loro possono fare gol. È entrato Diego De Sosa, ha segnato il 3-1, da lì si è anche un po' riaperta la partita. Ti chiedo se sono questi ultimi 20-25 minuti del Fossano per ripartire poi per le prossime partite? Oh no, sicuramente, c'è da migliorare e noi dobbiamo prendere il meglio da ogni partita e poi sempre la domenica successiva entrare sempre con l'approccio giusto. Adesso avrete anche il turnio infrasettimanale contro la Benga, come ci arrivate e che partita dovrà essere per il Fossano? Dobbiamo sicuramente riscattarci da questa partita e fare altri tre punti per riprendere la classifica. asturata